buongiorno a tutti oggi vi presento lo nuovo zaino trekking della vaude si chiama asymmetric con un litraggio di 42 più 8 è un zaino da trekking utilizzabile soprattutto per gitte da più giorni e su questo zaino abbiamo fatto un nuovo schienale si chiama tergolight vuol dire che gli spallacci sono facilmente allungabili come faccio vedere abbiamo quasi 15 centimetri di possibilità di allargarla poi abbiamo i spallacci molto traspirante stessa cosa anche al pettorale e abbiamo davanti una tasca grande come vedete qua poi abbiamo la possibilità di entrare nel portello principale adesso non si vede proprio però come qua e poi come sempre l'apertura qua sopra con ecco qua e lo zaino esiste in due colori nel verde con gli inserti in rosso e in un secondo modello in nero con gli inserti in arancione come vedete qua